Facciolo solo così, dai, facciolo così, bene. E' un po' di senza premere, mettila un po' sotto, vediamo, non ti tengo la mano, è brava. Ecco, vigenizza le mani. Ecco, non servono a caricare, meglio questo, vedi? Ecco, meglio questo, niente. E ti siedi nei bambini, vedi che ci sono dei sedi, sta scritto del tono. Ti siedi qui, uno di me, dietro, dietro. Ti metti sopra, a posto due da quelle bambine. Sì. Prends i pensi, c'è bene, e non sono quello che mi piace. Si. Ho, ho, ho. Ho. Ho, ho. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.